Una riforma sulla giustizia, secondo il Partito Radicale, urgente, necessaria e indispensabile. 1.275 le firme per il referendum raccolte finora a Trieste, 10.000 in tutta la Regione, grazie in questo caso al contributo della Lega di Salvini. Sei quesiti referendari, riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, responsabilità diretta e separazione delle carriere dei magistrati per ripristinare, sottolineano i radicali, lo Stato di diritto, ma tra i temi anche la custodia cautelare che resterebbe in vigore solo per i reati più gravi e l'abolizione del decreto severino per restituire così ai giudici la facoltà di decidere di volta in volta, in caso di condanna, l'interdizione dai pubblici uffici. È necessaria perché in Italia ci sono 22.000 persone in carcere in custodia cautelare in attesa di un processo, è necessaria perché ci sono oltre 1.000 persone che ogni anno vengono dichiarate innocenti, è necessaria perché se un pubblico ministero, un giudice sbaglia, anche lui, come tutti i cittadini italiani, deve pagare per i propri errori. I radicali rendono pubblica anche la cifra di contributi raggiunta a Trieste, 3.300 euro per un partito che si autofinanzia. La raccolta firme va avanti anche online fino alla fine di ottobre, poi l'attesa sarà per il referendum nella prossima primavera. Grazie a tutti.